Un punto deludente dopo una buona striscia di vittorie, poca lucidità forse oggi e soprattutto un approccio sbagliato all'inizio. Sì, è la dissamina giusta, però devo fare i complimenti pure a loro che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno fatto una grande gara difensiva, hanno fatto il gioco loro. Noi siamo stati poco lucidi sotto porta, abbiamo avuto delle occasioni, secondo me c'erano un paio di rigori, non so poi li voglio rivedere, però purtroppo questo è il calcio, noi già lo sapevamo, questa era una partita difficilissima, giocare con l'ultimo in classifica è sempre più difficile che giocare con la prima. Finalmente è arrivato, un ottimo punto che può dare fiducia, morale, conquistato soprattutto con l'ottimo atteggiamento che non è scontato in una situazione come la vostra. Sì, perché anche giovedì meritavamo un punto, perché in campo la partita era finita sul 2-2. Oggi devo dire che devo fare complimenti ai ragazzi e alla società perché stiamo iniziando un nuovo ciclo che inizia da oggi, l'avevo detto ai ragazzi prima della partita. Infatti c'è stato il mio rientro in campo perché credo fortemente in questo progetto dove l'obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile.